La mafia non è solo quella che ha ucciso i giudici Falcone e Borsellino, la mafia è quella che uccide i bambini e le donne incinte, la mafia è quella che si infiltra nella democrazia delle città, delle regioni, dell'economia legale, la mafia è quella che si arma della corruzione ancora oggi. Ecco, sentire parlare ancora oggi il Presidente del Consiglio e dire che la mafia è stata piegata è come ascoltare una barzelletta, soltanto che parliamo di una cosa seria. E sentire parlare un Presidente del Consiglio come se la mafia, se la mafia che uccideva i magistrati, ecco quella è stata piegata, ma non parlare di quella mafia che si arme della corruzione e che inquina la politica, questo mi addolora. Ma addolora anche le persone normali, le persone corrette di questo Paese. Perché oggi ci troviamo alla vigilia delle elezioni amministrative, ci troviamo alla vigilia di un fatto importante per la democrazia del nostro Paese e ci aspettiamo che i partiti politici facciano pulizia al proprio interno. Il Presidente della Commissione Antimafia, Rosi Bindi, ha chiesto maggiori strumenti per controllare i candidati di queste liste elettorali. Il Governo li darà questi strumenti? Farà in modo che si possa controllare prima chi si è infiltrato in queste liste elettorali? Ma ancora di più, i partiti politici faranno un esame di autocoscienza? Terranno fuori queste persone, fra virgolette, sporche? Attendiamo i fatti perché a parole ne abbiamo già dette tante.